Salve a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo video. Allora, oggi volevo leggervi non propriamente un articolo, ma sarà un post anche abbastanza breve, a cui però ovviamente seguiranno anche delle riflessioni. E' un post che ha pubblicato il maestro Emanuel Giordano su forse una delle figure più interessanti del karate e che è tra l'altro anche il maestro forse di ispirazione, il maestro preferito in qualche modo anche di Maurizio Di Stefano, che ovviamente saluto questo maestro che sto seguendo da un po' di tempo su YouTube e ovviamente vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al suo canale Karate Cultura Italia perché ne vale veramente la pena. Quindi il maestro Emanuel Giordano qui ci parla di motobu choki, in particolare i due motobu, articolo a cura di Emanuel Vignola. Allora, potrò leggerevi soltanto un estratto perché purtroppo l'articolo completone è disponibile, cioè c'è il link ma io non posso accedere, quindi vi leggerò soltanto questo estratto che ha scritto in questo post il maestro Emanuel Giordano. E qui dice Motobu Choki è un personaggio che solo negli ultimi anni ha iniziato ad essere conosciuto nel mondo occidentale in modo più approfondito, nonostante sia una delle pietre miliari nella storia del karate. Lui e la sua famiglia, soprattutto il suo fratello maggiore, Choyu, hanno avuto un impatto molto rilevante nell'ambiente del karate di inizio novecento. La famiglia Motobu era la più in vista dell'isola dopo la famiglia reale con cui era imparentata, motivo per cui i suoi rampolli potevano beneficiare in fatto di istruzione sia accademica sia marziale dei migliori insegnanti del regno delle Ryokyu. Con il tempo i due fratelli Choyu e Choki avrebbero raggiunto la notorietà in ambito marziale. Choyu ad Okinawa era il rispettato ispiratore ed insegnante anziano del Ryukyu Tode Kenyukai del 1923, l'associazione di ricerca che riuniva i maggiori maestri presenti sull'isola in quel periodo, ossia Miyagi, Mabuni, Kian, eccetera. Ove istruiva e scambiava pareri con gli altri insegnanti sia sull'arte marziale che aveva ereditato dalla sua famiglia come primogenito, il Motobu Dundi, qualche concetto in cui dice non l'insegnò mai ufficialmente se non a Sei Kichi Wehara per tramandare le vostre, quindi stiamo aggiungendo qualche concetto, qualche frammento. Sia sul karate più propriamente detto che aveva studiato sin dalla teneretà con i suoi due fratelli sotto diversi maestri, tra cui spiccavano Sokon Matsumura ed Anquitosu. A Motobu Dundi invece, salvo le lezioni che gli dite il fratello maggiore in età più avanzate, le chiamate così, tra virgolette, spiate mentre il fratello si allenava, venne precluso l'insegnamento dell'arte di famiglia come tradizione, tuttavia beneficiò dell'istruzione nel karate che veniva insegnata in casa sua dai rinomati maestri del periodo, ad esempio studiò sotto Anquitosu per ben otto anni e con il tempo amalgamò le conoscenze dei vari maestri con l'esperienza pratica acquisita reagendo alle sfide nel quartiere di Tsuji, a Naha, e raggiunse la notorietà quando in Giappone nel 1922 affrontò e sconfisse un lottatore straniero molto più giovane di lui in un incontro pubblico a Kyoto ed usò la fama acquisita per aprire una scuola, il Daibokan, che tuttavia rimase sempre di nicchia, essendo il suo metodo troppo personalizzato da Kinawense, scuola che fu surclassata dal karate di Jikin Funakoshi che si stava diffondendo enormemente secondo le linee fissate dal Dai Nippon Botukukai per adattarlo alla mentalità giapponese e renderlo degno di guadagnarsi un posto tra le arti marziali del Nuovo Giappone, del cosiddetto Nuovo Giappone. I due fratelli trasmissero le proprie conoscenze e diedero origine a due scuole separate, riunitesi solo di recente quando Wehara passò il titolo di erede del Motobu Dundi al figlio di Choki, Chosei Motobu. Tuttavia, sebbene apparentemente diverse, queste scuole hanno molti punti in comune. Il Motobu Dundi rappresenta un raffinato sistema familiare di combattimento che prevede sia una grande quantità d'armi tradizionali sia l'aspetto del combattimento a mani nude, come la tecnica di palazzo sviluppatasi nelle famiglie nobili dell'isola sin da tempi antichi, in un modo diverso da quello che comunemente viene inteso come Karate, che appunto viene inteso come Karate. Apparentemente rassomiglia, per dare un'idea all'arte giapponese, del Daetori o Aikijutsu, con una forte enfasi sui rispostamenti del corpo per evitare gli attacchi, quindi parliamo degli spostamenti, ossia i Tai Sabaki. E sul Tuidi, le tecniche di intrappolamento e manipolazione articolare. Inoltre pone grande enfasi sul combattimento, più che sulle forme. Considerate l'apice dell'arte con l'angi no mai, che è la danza marziale, una sorta di kata, eseguito come una danza tipica delle Ryukyu, in cui sono dissimolate le tecniche di Tuidi e gli spostamenti. Un concetto comunemente associato anche al Tai Chi. Bisogna specificare che l'angi no mai attuale non è l'originale di Motobu Choyu Sensei, bensì un rifacimento di Uehara Sekichi Sensei. E questo devo dire che è estremamente interessante, perché diciamo che era, tra virgolette, un pezzo che mi mancava per quanto riguarda il Karate. Vedete, c'è sempre molto da imparare su questa disciplina. E devo dire che soprattutto questo punto mi ha colpito molto, devo dire. Quest'arte marziale Choyu la tenne sempre segrete in ossequio alla tradizione familiare, tant'è che nelle esibizioni pubbliche e nelle lezioni al Kenyukai, pur inserendovi qualche concetto, insegnava il Karate che aveva appreso secondo lo schema classico, ad esempio nelle esibizioni il kata che dimostrava di norma era il Kusan Kudai, noto nella famiglia Motobu, con il nome di Ufukun. Ecco, questa è un'altra cosa, per esempio, che non sapevo. Kusan Kudai, che comunque poi si può fare l'origine del Kan Kudai. Come sappiamo però, che originariamente fosse chiamato Osufun, nella famiglia di Motobu, ecco, Ufukun, scusatemi, nella famiglia di Motobu, per esempio, anche questo non lo sapevo. Vedete, è molto interessante, perciò dico poi che è anche importantissimo studiare, cercare di sapere anche proprio le origini della nostra arte marziale, anche perché ci sono proprio delle perle che secondo me vale la pena sapere, che comunque si devono sapere. Chio Kimotobu, invece, utilizzava un metodo un po' anticonformista rispetto all'insegnamento del periodo. Studiò con diversi maestri, ma la sua caratteristica peculiare era quella di testare sul campo i concetti che imparava, partecipando a diversi kakedameshi clandestini ed eliminando e modificando quanto aveva appreso nel modo che riteneva più produttivo. Il suo metodo di insegnamento era molto personalizzato, cosa che contribuì senza dubbio alla limitata espansione della sua scuola e si rifiutò di adeguarlo alle spinte del Giappone moderno. Tuttavia aveva molto in comune con i concetti dell'arte marziale familiare del fratello maggiore, cheppur non aveva potuto studiare in modo compiuto. Sebbene si concentrasse sugli esercizi di rafforzamento del corpo, come era prassi nel mondo del karate okinawense, i kata per lui costituivano, come per il motobu udundi, l'apice dell'arte e non l'inizio come era opinione comune, per cui ne approfondi pochi, soprattutto i nai anchi, che riteneva l'essenza del karate, che si pone quindi alle origini di quelli che saranno poi i tre katate-ky, ossia i tre katate del Cavalere di Ferro, Tekishodan, Tekinidan, Tekisandan, abbiamo nello sciopo, dando grande risalto all'esercizio applicativo a coppie e creò un set di dodici di questi esercizi che costituiscono una sorta di compendio di tecniche applicative tratte per lo più dal suo kata preferito, dimostrando così un ulteriore punto di contatto tra le due arti, cioè una maggiore enfasi sull'applicazione nel kumite rispetto alle forme, quindi rispetto ai kata. Altri punti in comune tra le due arti sono l'enfasi sui principi del metode, del metode, scusate, mitodi, cioè mani, marito e moglie, chiamate proprio così, ossia far lavorare ambo le mani all'unisono, e la poca attenzione al principio del lichite classico, ossia ritirare il braccio al fianco, che questa è una tecnica di base che utilizziamo sempre nel karate se lavoro un braccio solo. Infatti io all'ultimo stage, all'ultimo seminario a cui ho preso parte, qui a Vigevano, lo stage di cuore organizzato dal maestro Michele Scutaro in cui come docente c'era anche il maestro Ciccarelli che, come ho detto anche in un precedente video, è il maestro con cui mi vedete nel mio attuale avatar, nel mio attuale fotoprofilo, ecco, il maestro Ciccarelli ci spiegò, ci ha spiegato in questo stage proprio il concetto di chite, anche a che cosa serve, ed eravamo tutte cinture nere e nessuno sapeva il significato esatto di chite, perché lui ci ha chiesto, ma voi sapete cosa significa chite tutti quanti? Eh, la mano al fianco. Non era, diciamo, esattamente così, ed eravamo tutte cinture nere, prime e secondi danne, cioè, figuratevi, quindi questo vuol dire proprio che nel karate c'è veramente sempre tanto da imparare, veramente, non si finisce mai di imparare la nostra meravigliosa disciplina. Poi qui l'articolo conclude, del poco utilizzo di posizione o tecniche di difesa standardizzate, la preferenza di colpire con il braccio o la gamba più vicino al bersaglio, l'uso sapiente del movimento del corpo per schivare ed evadere degli attacchi avversari, ambe due queste arti costituiscono un tesoro che ci arriva direttamente dal Vecchio Regno dell'Iliokiu. L'una, un'arte familiare rimasta invariata nel tempo e praticata dalla più alta nobiltà del Vecchio Regno, l'altra, una disciplina testata sul campo che ci tramanda una serie di principi testati in combattimento di strada e ci dà delle importanti linee guida per interpretare i kata tradizionali. Tra l'altro, ecco, una cosa che avevo dimenticato di dirvi prima proprio sul concetto di hikite che ci ha spiegato il maestro Ciccarelli in occasione dello stage di cuore organizzato dal maestro Michele Scutaro qui a Vigevano, ecco, mi sembra, non vorrei dirvi una castroneria, però mi sembra che proprio sul concetto di hikite il maestro Ciccarelli ci spiegò che significa deriva da hiki che mi sembra significhi nascondere, non so. mi pare ci abbia dato questa spiegazione, magari mi ricordo male io, ma non ve l'avevo detto prima anche perché volevo evitare magari di fare una figuraccia, però magari se qualcuno di voi è più esperto di me se lo ricorda magari me lo scriva nei commenti. Quindi, insomma, appunto, sul concetto di hikite mi sembra che il maestro Ciccarelli ci abbia parlato del fatto di ritirare e quindi nascondere la mano se non ricordo male. Bene, quindi qui si conclude questo pezzo, questa parte di articolo sulla figura di Motobucioki. quindi termino qui questo mio video di oggi. Se il video vi è piaciuto ovviamente mettete like, commentate, condividete e se i miei contenuti vi piacciono iscrivetevi al canale. Io vi ringrazio per l'attenzione e ci rivediamo ad un prossimo video. Arigatul gusamastah. Grazie. Grazie.